La solidarietà per l'Ucraina cresce sempre di più e si moltiplicano iniziative a favore della popolazione. In prima linea ci sono anche le 450 farmaci abruzzesi che hanno dato vita ad una raccolta fondi per acquistare i farmaci, che sono forse la cosa più necessaria al momento. Si è arrivati già a 20.000 euro di donazioni, l'obiettivo è puntare a 40.000 per acquistare il primo lotto da inviare in Ucraina. L'operazione è gestita dalla protezione civile. Non saranno raccolti direttamente farmaci per ragioni pratiche, ma è in corso la raccolta fondi con un conto appositamente dedicato. Con la cifra che sarà raccolta saranno acquistati cerotti, siringhe, garze, bendaggi, medicazioni, prodotti per l'infanzia e latte artificiale, oltre agli antibiotici e farmaci di prima emergenza. Il sistema delle farmaci italiane, organizzato con l'organizzazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, la FOFI, ha intrapeso alcune iniziative per solidarizzare e di supporto alla tragedia della guerra in Ucraina. Asso Pharma sta raccogliendo fra i propri associati delle somme e delle donazioni in denaro, perché capiamo le difficoltà nel mandare farmaci, anche se molte farmacie comunali, molte farmacie stanno comunque raccogliendo farmaci per mandarli alle popolazioni bisognose. Noi stiamo raccogliendo dei fondi perché con questi fondi, in base agli elenchi che ci vengono dati dalla protezione civile dall'Unione Europea, possiamo poi acquistare a prezzi di costo materiale per il primo soccorso per chi è al fronte e soprattutto per i bambini, prodotti per i bambini. Noi acquisteremo questo materiale, lo trasmetteremo alla protezione civile italiana, la protezione civile italiana è d'accordo con la protezione civile polacca e rumena per consegnare poi quanto raccolto dalle farmacie comunali italiane. Asso Pharma si sta muovendo però anche a livello europeo, perché il presidente Venanzio Gizzi è anche presidente dell'Unione Europea delle Farmacie Solidali. Moltissimi cittadini intanto si stanno recando nelle farmacie per acquistare loro stessi dei farmaci per le varie raccolte che si stanno facendo nelle città.